Vittoria all'ultimo respiro per i Delfini che con i tre punti possono guardare con più calma alle restanti gare di oggi. Tante volte nell'arco della stagione era stata l'agropole ad essere beffata in zona Cesarini, questa volta è lei a poter far festa nei minuti di recupero grazie ad un rigore di Montano. Prima frazione nella quale i padroni di casa ci provano in apertura con Ruggiri che calcia alto sugli sviluppi di calcio d'angolo e poi con due conclusioni dalla distanza di Ottonello, entrambe le spinte da Ramurro, rispettivamente al ventunesimo e al ventisettesimo del primo tempo. Chiude la lista delle occasioni da gol della prima frazione un diagonale di Piemontese ma il sinistro risulta debole ed impreciso. Si va dunque all'intervallo sullo 0-0. Mister Dell'Isanti, squalificato, affida al dirigente Annoni il compito di scuotere la squadra negli spogliatoi. Infatti i primi dieci minuti del secondo tempo sono tutti di marca bianca azzurra. Al primo ed al decimo, conclusione fotocopia di Dattilio, destro potente ma in entrambi i casi ancora un super Ramurro, dice di no all'under di Castel San Lorenzo. Nel mezzo, al terzo minuto, Landolfi da due passi non sfrutta un tiro cross di Ottonello. Da quei minuti finali non succede quasi nulla, a parte la girandole delle sostituzioni, con l'Agropoli che le prova tutte per rendersi pericolosa, ma un montalto organizzato benissimo chiude sempre tutti gli spazi. Minuti finali pirotecnici, nei quali succede di tutto. Ad inizio recupero, cross perfetto per Mascolo, che di testa impatta male e spedisce abbondantemente alto sulla traversa. Al cinquantesimo, serie di batte e ribatti, prima dell'ennesimo provvidenziale miracolo di Ramurro, che mette in angolo. Sugli sviluppi dello stesso, Capozzoli viene stesa in scivolata da SEC. L'arbitro decide per il rigore, tra le proteste vehementi degli ospiti, secondo i quali l'intervento sarebbe accaduto all'esterno dell'area del rigore. Rivediamo le immagini, dalle quali emerge chiaramente che il fallo è venuto fuori aria. Nonostante le proteste, l'arbitro è irremovibile. Dal dischetto, Montano fa 1-0 al sesto minuto di recupero. Rivediamo le immagini e l'esultanza di Giovanni Montano. Tre punti vitali per i delfini, che possono tirare un sospiro di sollievo. L'eventuale pareggio avrebbe concesso chance enormi agli inseguitrici di agganciare o superare l'Agropoli. Al termine della gara, in sala stampa, il team manager Volpe si dichiara estremamente soddisfatto dalla prova dei ragazzi. Domenica 7 aprile, altro scontro importante, in Sicilia contro il Paternò, diretta concorrente anch'essa per la salvezza.